Fondo perduto del 50% per supportare l'export delle imprese venete. È stato pubblicato dalla Regione Veneto un bando a supporto dell'export delle imprese venete. I beneficiari di questo incentivo sono le aggregazioni di imprese con almeno tre imprese con le seguenti modalità. Contratto di rete, consorzio con attività esterna, società consortile, società cooperativa, associazioni di imprese a carattere temporaneo, leati. Oppure i distretti industriali e le reti innovative regionali. L'agevolazione consiste in un fondo perduto del 50% con una spesa minima ammissibile di 60.000 euro e spesa massima ammissibile di 500.000 euro. Le spese ammissibili sono le consulenze specialistiche di internazionalizzazione e di business, la partecipazione a fiere con le spese di locazione per gli spazi esploditivi, le spese di installazione e gestione degli stand e i costi del personale dipendente. Sono inoltre ammissibili come spese la pianificazione ed attuazione di iniziative di incoming. La scadenza del bando è fissata per l'ora 17 del 18 febbraio 2020. Si tratta di un bando a graduatore di merito. Maggiori informazioni e la scheda completa del bando la trovate sul sito retegevolazioni.it Maggiori informazioni e le spese di internazionalizzazione e le spese di internazionalizzazione.it